Il calcio di rigore, calcio di rigore Tutto a posto Teddy? Tutto a posto, la gamba, la spalla, come sta? Albitro, Albitro, Albitro c'è un campio Calcio di rigore, sul dischetto c'è Lele, freddezza e concentrazione Il rete ha segnato Lele, il numero 7, ha portato in pareggio la gara 2-2 fino a questo momento, sul calcio di rigore per atterramento in aria Di Teddy Mata 2-2 fino adesso, comunque qualsiasi risultato da questa gara non fa classifica Comunque, questa è la squadra che vogliamo Sì sì, bravo mister, abbiamo Andrea che c'è una chiappa, una coscia La coscia, zio c'è Eh, giustina è una c'è Lettifico, fase anatomica coscia Ah, buona scivolata, zio c'è Eh, capra, ma è Cristiano, non ti attacca